E' un'occasione bella E' un concerto di amici che è piacevolissimo Ascoltare la passione degli artisti Sostanzialmente ci sono un sacco di artisti che fanno tanti brani diversi, principalmente metal, anche jazz, un po' di tutto E' una bella serata perché condivide la passione per la chitarra, l'istrumento della chitarra E quindi noi siamo qua a posare due brani dei francesi Ci sono proprio un po' di chitaristi, tutti molto validi In generi dei più disparati, dal metal più spinto, alla shred, alla musica, alla fusion C'è un po' di tutto Presenterò Perpetual Burr di Jason Becker Un brano decisamente oltre le mie capacità Il San Giac è andato abbastanza bene Ho bisogno di riscaldarmi un attimino perché altrimenti viene fuori una disgrazia Questa sera vi proporò delle ottime pennette con burro e salvia D'azzo chance e punti di vietti Pollo alla cacciatore Padate al forno E alla fine Glace Low Kiss di John Petrucci L'album nuovo è uscito alla metà di dicembre Un bellissimo album di Day After Flower La stazione è Eden E buon pratica E musica fatta con il cuore Un bellissimo Un bellissimo Un souvent Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.